Il Borgo Storico di Pergola finisce in tv, su Rai3 per essere precisi, dove nel programma il Chilimangiaro rappresenta la regione Marche nella sfida del Borgo dei Borghi. Nella conferenza stampa di oggi è venuta Pesaro nella sede della Confcommercio, presenziata anche da alcune rappresentanze dell'itinerario della bellezza come Pesaro e Fossombrone, e rappresenta il sindaco di Pergola, orgogliosa di questa vetrina importante sia per il suo comune che per le Marche. Pergola ha l'onore in questo caso, in questa sfida, di rappresentare l'intera regione Marche all'interno di questa competizione, di questa sfida, che vede da 20 borghi protagonisti. Quindi attraverso il sito della Rai, nella pagina dedicata al Borgo dei Borghi, sarà possibile esprimere la propria preferenza e votare quello che si vuole scegliere come il Borgo dei Borghi. Noi abbiamo l'onore di rappresentare l'intera regione e credo che sia un'occasione di visibilità per tutto il territorio. In questo caso l'invito a tutti che rivolgiamo è di votare Pergola, proprio per sostenere le Marche, sostenere tutto il nostro bellissimo territorio, che abbiamo la fortuna di vivere e che vogliamo in questo caso mostrare e aprire ai visitatori. Si può votare sino al 3 aprile, si può esprimere un voto al giorno, quindi è importante non solo votare ma farlo anche tutti i giorni. Il Borgo, poi vincitore, verrà proclamato il 17 aprile in prima serata su Rai 3. Quali sono, secondo lei, le particolarità per cui Pergola è stata selezionata tra i tanti altri borghi delle Marche? Noi abbiamo i bronzi dorati, dei reperti veramente unici, meravigliosi, che abbiamo l'onore di custodire nel nostro museo e sicuramente rappresentano un'eccellenza, quindi credo che questi siano un elemento a favore della nostra candidatura. Abbiamo tanti prodotti tipici, primo tra tutti il vino, che tradizionalmente caratterizza il nostro territorio, insieme al Tartufo e tanti altri prodotti, abbiamo delle colline meravigliose, un paesaggio meraviglioso, quindi credo che questi possano essere alcuni degli elementi che hanno portato a far sì che Pergola possa rappresentare tutto un territorio più ampio all'interno di questa sfida.